Popolo di YouTube, adesso sono le 20 e 15, prima che arriva qualcun altro a dire 90 velocità in diretto, il 21 e il 90 su Cagliari-Torino, a lì l'ottologo quando vince c'è il sottoscritto, c'è lo sconso in mano, è molto più bello così, e quest'unico ambo era su Cagliari e Torino, guarda un po' la stranezza, dove è andato il 90? Su Torino, ma io ve l'ho dato su Cagliari, ruota unica, 21 e 90, vedete? Caro? Non vi dico sul mio cervello quando ce ne sono di queste viste, ok? Più tardi fanno un'altra viste, aspettatevi che si indirete di altre parti, abbiamo fatto, abbiamo detto, io ve l'ho dato e io l'ho giocato, eccolo qua, puro veramente a tutti e tutti quanti puro, specialmente per il 90 colpa, vedete? Per il rio, guarda, ok, ancora prima di salutarvi, un attimo solo, solo un secondo, ecco il primo scordino pervenuto in questo momento, vedete? Un solo ambo, veramente potremmo andare avanti, le vincite in massa, non ne vale la pena, portatevi che sono tutti contenti e tutti felici, ok? Vi aspettatevi da altre parti, l'abbiamo dato, l'abbiamo dato, chi l'ha dato è stato sottoscritto, guardate su tutte e due le ruote, su ambe due le ruote, mi cimenti, ok? Dalione è tu, ciao ciao ciao!